e bello a tutti ragazzi e ragazzaci benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clash ho visto che ho visto che mi state sostenendo la serie chi è scusa scusate se ieri sera non vi ho portato a grado che il pc era occupato da minufra e ragazzi 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 vi do delle notizie buone e una brutta quella brutta è cala e quella bella è che mi e stasera alle 6 uscirà un video di agrario 6 uscirà perchè c'ho da fare cioè non lo so cioè raga non lo so se nel video di ieri che ve l'ho fatto perchè non lo so però c'ho paura e non lo faccio ad attaccarlo cioè beh andiamo avanti ma se ma se attacchiamo questi qua tipo dall'ultimo in poi no 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 neanche questo ma c'è forse uno e muoveremo 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 però non inizio a guardare con le moni alzette tipo stavamo in guarda cioè ci hanno sterminato raga raga ci hanno sterminato cioè io quando ho perso la mappa per visualizzare il clan stamattina stavo a giocare a clash ve lo giuro hanno fatto attacchi su attacchi più di seguire puzza la massetta pure a me mi hanno fatto più com'è che accanto bo ecco perché già questo io inizio a buttare qua un po' e io riesco a farlo il cento per cento non potremmo non potremmo attaccare attacco da attaccavano inizio c'è meno male buttiamo subito i palichieri qua il trago subito Ho voluto fare un attacco strano, tipo no, come quello sempre, draghi, arcieri, etc., cavoli e ramazzi. Ho voluto fare un attacco, così c'è una stella, avremo giù, possiamo guire il re, è accadda, noi faremo nemmu e nemmu e affagli al 100%, c'è il drago, c'è sta il drago, no, 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 no si è nascito porca troia porca ragazzi scusate se sto un attimo sizzito però c'è è rimasto un po' di caca di sentire parlare mia sorella perché c'è io lo vedo pure fa il cento per cento per cento per cento per cento devo attaccare l'ultimo cioè cioè poi ho fatto un attacco diverso dall'altro ve l'ho detto c'è c'è le difese le difese basse basse c'è come ho pulito perde ragazzi scusate se ho messo c'è 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 lo sei guarda la vedi ho perso sia le mongossiere e i draghi perché io dovevo andate qua porca misericcia e poi c'è sta pure il drago però buono buono la gente il computer scusate l'altro no allora aspetta aspetta c'è c'è questo quel th c'è 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 questo il th 11 sta c'è questo è pipa io potevo attacca c'è questo qua io facevo t per cento per cento perché io buttavo messa l'arco x giù questo qua oh my c'è 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 sto coi becca a quello c'è guarda ci hanno distretto pure questi qua che stanno guarda stanno il th9 io voglio vedere il primo è cazzo se no la gli hanno fatto a fare due stelle c'è voglio voglio vedere c'è ho usato barbara a livello set al massimo set set giganti a livello massimo c'è terminato qua boh io non lo so che dire per questo video è tutto pollicioni su iscrivetevi commentati ci vediamo stasera se con un nuovo video uscirà una piccola accendamento allora voglio salutare un amico mio che mi ha scritto nei commenti qual'episodio mi ha scritto nei commenti questo perché si chiama Gabriele lo ringrazio io non si guarda con me lo saluto col cuore ciao Gabriele io voglio bene perché è un amico grazie poi saluto un altro amico mio a e aspetta un attimo eccolo questo qui è un altro amico mio allora iscrivetevi al canale di un amico mio che si chiama Samuel Palombo mi raccomando iscrivetevi vi metto pure il link in descrizione se ci riesco se ci riesco se ci riesco a fare il link che dire per questo video è tutto oggi ci vediamo stasera con no aspettate volevo dirvi che me sono perso poi vi volevo dir questo ho pubblicato oggi volevo dirvi se se vi sta bene oh porca se vi sta bene che se vi sta bene che i video usciranno alle tre e un altro video alle sei perchè io per le tre sto a casa ho fatto tutto con mangio e mi faccio i compi che dire commentate il pollice in su ci vediamo con un nuovo video che che ho fatto Grazie.